Ho parlato di venti che hanno messaggi Quante parole ho provuto evitare per non creare problemi Quando pensavo di essere il giusto a stradire Se mi stanno da tu Ma che mi trovo a volerci Se mi stanno da tu Ma che mi trovo a volerci Ma che mi trovo a volerci Se mi stanno da tu Ma che mi trovo a volerci Quando pensavo di dire che connecht Mi stanno da tu Non è la fine del mondo se sto con gli amici a te e a te Io non capisco cosa c'è di male, è una volta in dettaglio che ci sta Non so se è giusto o sbagliato ma per me non vale questa libertà Grazie! Ciao! Ciao!